Le linee programmatiche per l'appalto sulla gestione dei rifiuti a Chieti, in questa giornata quali saranno soprattutto le direttive e qual è l'obiettivo? Le direttive le abbiamo già date in giunta, la voglia è quella di avere una città sempre più pulita, avere servizi sempre più vicini ai cittadini, fare in modo che ci siano isole ecologiche che tolgano dalle strade i mastelli, che oggi comunque sono un elemento di disturbo, creare politiche che avvicinino anche le classi meno abbienti alla possibilità di smaltire con maggiore facilità e ovviamente quella che è la meta più importante è aumentare quel 60% di differenziata sino al 65% nei prossimi mesi. Tutto questo è quello che vogliamo fare, lo stiamo facendo attraverso una serie di indicazioni date dall'aggiunta a chi dovrà redigere il capitolato d'appalto e quindi anche l'avviso per selezionare il nuovo gestore del servizio di igiene urbana, ma lo stiamo facendo soprattutto ascoltando i cittadini e i cosiddetti stakeholder, cioè i portatori di interesse della nostra città. Chieti si è distinta perché tra i comuni abruzzesi era quella che non ha mai aumentato il costo della tassa sui rifiuti, mantenendo i servizi, in questo caso implementando la differenziata ci saranno variazioni? No, non ci saranno variazioni sostanziali ma noi ci aspettiamo che ci siano invece variazioni in diminuzione del costo e quindi con la possibilità di azionare anche la leva fiscale diminuendo la pressione sui cittadini. È ovvio che questo è un sistema che deve vedere tutti coinvolti. Io devo denunciare in questo momento una diminuzione del livello di differenziata perché purtroppo ci sono ancora troppi cittadini incivili. Su questo abbiamo anche messo nel capitolato che ci sia maggiore sorveglianza attraverso anche droni.